Tragedia venerdì mattina in provincia di Vicenza, a 90 in via Frassine. Un operario di 48 anni di origine rumena era impegnato nella pulizia dell'argine che affianca al canale. Improvvisamente è scivolato cadendo nell'acqua e non riuscendo più ad emergere. L'acqua in quel punto pare non sia superiore ai due metri, ma l'uomo non sapeva nuotare. Era presente un collega poco distante, ma non è riuscito ad aiutarlo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Lonigo e Vicenza. Sono intervenuti anche con il personale del SAF, Speleo Alpino Fluviale, ma hanno potuto solo recuperare la salma. Sul posto i carabinieri di 90 e personale dello Spisal.